Mi chiamo Simeone Ivana, sono un'infermiera professionale e lavoro nella sanità dal 1983. Negli anni della mia carriera professionale ho visto un degradare continuo di quella che è la struttura sanitaria, in quanto sono state stanziate dei finanziamenti ma non si sa dove siano finiti. Nonostante il personale sia stato formato in maniera eccellente, i miei intenti come Movimento 5 Stelle sarebbero quelli di formare un'equip di giovani professionisti che possano andare in ogni ASL d'Italia e controllare e vedere dove sono le carenze e dove sono le mancanze per poter dare un nuovo aspetto a questa sanità e poter dare al cittadino una nuova dignità, sanità pubblica. Per me il Movimento 5 Stelle è una grande opportunità, un rinnovamento totale di quella che è la classe politica che fino ad oggi non ha saputo gestire la nostra Italia, l'ha ridotta in queste condizioni.